Percy. Percy sentiva la mancanza di Bob. Si era abituato ad averlo accanto, con la sua terribile scopa da guerra e la chioma d'argento che illuminava il cammino. E adesso, invece, la loro unica guida era quella specie di cadavere ambulante, afflitto da gravi problemi di autostima. Mentre arrancavano nella pianura polverosa, la nebbia si fece così fitta che Percy dovette frenare l'istinto di spostarla con le mani. L'unico motivo per cui riusciva a seguire il cammino di Acliss era che spuntavano piante velenose ovunque la dea posasse i piedi. Se erano ancora nel corpo del tartaro, Percy immaginò che dovevano trovarsi in fondo a un piede, una superficie dura e callosa, dove cresceva solo la flora più rivoltante. Finalmente giunsero in cima all'alluce, o almeno Percy ebbe questa sensazione. La nebbia si dissipò e i ragazzi si ritrovarono su una penisola che si protendeva sopra un baratro nero come la pece. «Eccoci arrivati!» Acliss si girò e li guardò con un ghigno malvagio. Il sangue che le rigava le guance colò sulla veste. Gli occhi languidi sembravano umidi e gonfi, ma anche entusiasti. «Può la dea della disperazione provare entusiasmo?» «Fantastico!» disse Percy. «Arrivati dove?» «Sull'orlo della morte definitiva!» rispose la dea. «Dove notte incontra il vuoto sotto il tartaro!» Annavet si avvicinò con prudenza e scrutò nel baratro. «Credevo che non ci fosse niente sotto il tartaro!» «Invece sì!» «Aclisto sì! Anche il tartaro doveva sorgere da qualcosa! Questo è il limite dell'oscurità più antica! Mia madre! Sotto si estende il regno di Chaos! Mio padre! Qui siete più vicini al nulla di quanto un mortale sia mai stato! Non lo percepite?» Percy capì cosa volesse dire la dea. Sembrava che il vuoto lo attirasse a sé, togliendogli il respiro dai polmoni e l'ossigeno dal sangue. Guardò Annabeth e vide che aveva le labbra blu. «Non possiamo restare qui?» disse. «No, certo!» commentò Acliss. «Non sentite la foschia della morte? La state attraversando in questo istante! Guardate!» Fumo bianco si addensò intorno ai piedi di Percy e iniziò a risalire lungo le gambe. Percy si accorse che il fumo non lo stava circondando. Proveniva da lui. Tutto il suo corpo si stava dissolvendo. Sollevò le mani e vide che erano sfocate indistinte. Non sapeva nemmeno più quante dita avesse. Ancora dieci c'era da augurarsi. Si girò verso Annabeth e soffocò un grido. «Sei...» Non poteva dirlo. Sembrava morta. Annabeth aveva la pelle giallastra, le orbite scure incavate. I bei capelli erano un secco groviglio di ragnatele. Era come se fosse rimasta rinchiusa per decenni in un mausoleo freddo e buio, per trasformarsi lentamente in un cartoccio di mais secco. Quando si girò a guardarlo, i lineamenti del suo viso si confusero per un attimo con la foschia. Percy sentì il sangue scorrere lento e denso nelle vene. Per anni aveva temuto che Annabeth potesse morire. Quando sei un semidio è una preoccupazione normale. La maggior parte dei semidei non vive a lungo. Non dimentichi mai che il tuo prossimo mostro potrebbe essere l'ultimo. Ma vedere Annabeth in quello stato era straziante. Avrebbe preferito trovarsi nel fregetonte, essere attaccato dalle arai o calpestato dai giganti. «O dei!» singhiozzò Annabeth. «Persi sembri...» Il figlio di Poseidone si guardò le braccia. L'unica cosa che vide furono grumi di foschia bianca, ma intui che Annabeth lo percepiva come un cadavere. Fece qualche passo, anche se affatica. Il corpo gli sembrava inconsistente, come se fosse fatto di elio e zucchero filato. «Ho avuto giorni migliori», disse. «Non riesco a muovermi con soltezza, ma sto bene». A Cleese ridacchiò. «Oh no! Non stai per niente bene!» «Ma saremo invisibili adesso! Possiamo raggiungere le porte della morte?» «Beh, forse sì», rispose la dea. «Se vivrete abbastanza lungo!» «Ma non accadrà!» A Cleese allargò le dita nodose. Altre piante spuntarono lungo l'orlo del baratro. Cicuta, Morella e Oleandro si spandevano verso i piedi di Persi come un tappeto letale. «La foschia della morte non è solo un mascheramento! È un modo di essere! Non avrei potuto farvi questo dono senza che ne seguisse la morte!» «La morte vera!» «È una trappola!» esclamò Annabeth. La dea ridacchiò. «Non vi aspettavate che vi tradissi?» «Sì!» risposero all'unisono Annabeth e Persi. «Beh, allora non è stata una vera e propria trappola! Più un'ineluttabilità, direi! La miseria è ineluttabile!» «La sofferenza è...» «Sì, sì!» ringhiò Persi. «Andiamo al sodo! Combatti!» Sguainò vortice, ma la lama era diventata di fumo. Quando sferrò un colpo contro Acliss, la spada l'attraversò come una brezza delicata. La brutta bocca della dea si aprì in un ghigno. «Mi sono dimenticata di dirvelo? Siete solo nebbia adesso, un'ombra prima di morire!» «Forse, se aveste più tempo, potreste imparare a controllare la vostra nuova forma! Ma non ce l'avete! Dato che non potete toccarmi, temo che un combattimento contro la disperazione sarebbe uno scontro unilaterale!» Le sue unghie si trasformarono in artigli. Acliss spalancò la bocca fino a slogarsi la mascella. E i suoi denti gialli divennero lunghezzanne.